e la semifinale categoria G2 del ciclo maniera e il racing Elia Berto che ha preso il comando dell'operazione per il secondo posto andiamo poi a ritrovare Samuele Pellegrini e la via mix ciclistico che ha preso abbiamo quindi Giulia Bona all'interno che rimane al secondo posto e per i lettivi amici e grasso avremo a vedere con Achille Diego Raniero se riusciremo ad entrare nel finale finiva situazione Elia Berto e Scorsnori con Samuele Pellegrini all'interno Giulio Bona e per il quarto posto abbiamo il numero 625 stile viene Romero e c'è lo sprint con i lettivi e l'inizio è vero ma la quarta posizione è tutta i lettivi Zofino alla linea d'arrivo